guarda qua ehi guarda qua come la guarda e che dici? ma la citazione lo fa tu nella casa ha fatto la citazione? e perchè? eeeh e perchè perchè aveva 3 masate 45 litri 3 masate e io il mese scorso te le ho date le 15 litri e perchè anche io non mi serve io stavo io stavo io stavo senza molto eheh si e la una delle viennes e io comprivo eheh eheh si ma io pure un altro mese te le ho date le 15 litri io sono una masate portato al sato eheh che le 15 litri pure tu servei? eheh si eheh si eheh la venere del milo eheh oh mannaccio mannaccio a me e chi mi ceca io ti spuso a te io non ce l'ho giocato io non ce l'ho giocato eheh si sape ehi si ci voleva un buon passato stu uoio eheh eheh con me se con me chi è ed è eheh chiusa? se niente di parlare mi sa certo la folla che si è ritrovata attorno a me questo è tutto che mi è compiativo è cercato, è cercato con la sedia sola e volete accompagnare un caffè e mi offre un bello bicchiere d'acqua un bacetto lo sai che finisce, un bicchiere d'acqua pure un bicchiere d'acqua, i poveri mi sono assai a paura un po' non c'è un bacetto, è stato un bacetto camminando, camminando, io lo contai tutto e vai a me e se lo contai tutto e vai a me e allora, un'attima, e vai a me